è uscito finalmente il tabellone del Roland Garros e alla fine sì ci saranno anche i tre grandi quelli che erano in grande dubbio solo fino a qualche giorno fa Sinner al Carazinadal salvo imprevisti dell'ultimissimo momento giocheranno a Parigi non ci sarà invece Matteo Berrettini che stamani ha comunicato la decisione di saltare anche questo appuntamento rimandare il suo rientro alla stagione sull'erba cosa che era abbastanza prevedibile dopo la rinuncia a Roma erba dove probabilmente è a ragione direi pensa di avere le maggiori possibilità di fare immediatamente bene in tabellone non ci saranno nemmeno Diego Schwarzman e Dominic Thiem e non ci saranno non solo in questa edizione ma per sempre anche in futuro dato che questa sarebbe dovuta essere la loro ultima apparizione a Parigi prima del ritiro in realtà l'apparizione c'è stata ma solo nel torneo di qualificazione in svolgimento in questi giorni e che ormai ha assunto bisogna dire la spettacolarità quasi di un torneo in un torneo però hanno perso entrambi hanno perso al secondo turno e per entrambi si chiude simbolicamente una parte della carriera importantissima dato che sia Schwarzman che Thiem sono stati grandi protagonisti sulla terra battuta in particolare a Parigi per quanto riguarda l'austriaco ci sono state parecchie polemiche per la mancata assegnazione di un wildcard ma Thiem con una classe direi notevole le ha smorzate tutte sul nascere dicendo di aver avuto tutto l'anno e tutte le occasioni per qualificarsi di diritto e che quindi il problema non si poneva ed in effetti sia Thiem che Schwarzman hanno vissuto una fase finale di carriera durissima senza nessuna soddisfazione nonostante gli evidenti sforzi per provare a fare meglio e quindi immagino con un esito molto difficile anche da elaborare dopo essere stati così competitivi per anni ma il tennis e lo sport direi in generale sono affascinanti anche per questo per la componente per certi versi violenta e sicuramente spietata che sottolinea sempre l'inesorabile passare del tempo e il decadere del corpo anche quello una volta quasi invincibile proprio di atleti simili un decandimento che invece cerca di respingere in ogni modo Novak Djokovic ovviamente anche lui nel tabellone parigino è anche lui impegnato questa settimana ma altrettanto ovviamente non nelle qualificazioni bensì nel torneo di Ginevra dove sta cercando di mettere diciamo nel motore un po di carburante agonistico in vista del torneo torneo che inizierà domenica e che vedrà il serbo da numero uno del mondo essere di conseguenza testa di serie numero uno nel tentativo di difendere questa posizione da un eventuale assalto di Sinner che è possibile dal punto di vista perlomeno matematico. Djokovic al primo turno affronterà una wildcard il francese Pieru Gerber ed in generale i problemi potrebbero arrivare per lui al terzo turno probabilmente con uno tra Musetti che dopo il primo turno con Galan potrebbe affrontare il vincente di Monfils contro Seibot Wiltsch ed eventualmente appunto il serbo al terzo turno. Nel quarto alto del tabellone da segnalare anche Fognini impegnato contro Bottic van de Zanschulp e un interessante rude contro la giovane promessa cieca Jakub Mensik. Però il blockbuster assoluto del primo turno arriva sempre nella parte alta ma nel quarto di Alexander Zverev che al debutto si troverà di fronte niente meno che Rafael Nadal. Un sorteggio incredibilmente affascinante quanto sfortunato per Nadal che dovrà affrontare il fresco vincitore di Roma e un avversario per lui complicato anche in un passato ben più luminoso dal punto di vista della forma. Detto questo credo che nemmeno il tedesco sia entusiasta del sorteggio perché tralasciando le questioni e i valori tecnici dal punto di vista psicologico potrebbe non essere una partita banale che sicuramente porterà una certa componente di stress non esattamente gradita ad inizio torneo. In quella zona di tabellone buoni sorteggi per Darderi che si troverà di fronte l'australiano poco avezzo alla terra Isikata e poi eventualmente uno tra Goffin e Mpesci per Ricard e per Cobolli che al debutto invece si troverà di fronte un qualificato. Nella parte bassa del tabellone ci sono invece gli altri italiani che hanno avuto accesso diretto al torneo ed in particolare nello spicchio di Rublev, Alkaretz e Zizipas, tutti questi con primi turni abbordabile, ci sono Nardi che troverà Alexander Müller e poi eventualmente il vincente di un primo turno molto interessante tra Arnaldi e Arthur Fiss. Per un sonico in grande difficoltà invece ancora una volta dopo Roma, Hugo Mber. Prima di continuare analizzando l'ultimo quarto della parte bassa del tabellone, quello di Yannick Sinner, vorrei parlarvi dello sponsor di questa puntata, ovvero NordVPN. NordVPN è un servizio che personalmente uso da tempo che nascondendo il vostro indirizzo IP vi sbloccherà una serie di piattaforme che magari non sono disponibili nel paese dove vi trovate e allo stesso tempo proteggendo la vostra identità online da sguardi indiscreti con la certezza che nessuno si possa appropriare dei vostri dati. In questi giorni oltretutto NordVPN vi fa un regalo perché se acquisterete entro il 30 maggio uno dei piani di abbonamento biennale riceverete una carta regalo appunto chiamata GoGift di un valore che varia in base al piano acquistato dai 10 ai 50 euro nel caso di piani di terzo livello. Il credito di questa carta regalo potrà essere utilizzato su molte piattaforme tra cui molte di queste riguardano il mondo dei viaggi tipo vola gratis, Flixbus, Italo, Airbnb, perfette magari proprio se avete intenzione di andare a guardare un po' di tennis in giro per l'Italia e per il mondo. Ma non ci sono solo servizi legati al viaggiare, infatti è possibile utilizzare GoGift anche su Amazon, Nintendo, GameStop ad esempio nel caso in cui preferiate starvene a casa a giocare a Topspin 5. Peraltro potete provare NordVPN senza alcun impegno per 30 giorni entro i quali potrete infatti scegliere di richiedere il rimborso senza nessun vincolo. Attenzione però che ovviamente in questo caso perderete la gift card ma insomma rimane la tranquillità nel caso il servizio non dovesse piacervi di essere completamente rimborsate. Fatemi sapere e se volete trovate il link qui sotto oppure in descrizione. Come dicevo passando infine all'estremità bassa del tabellone maschile troviamo Yannick Sinner che da testa di serie numero 2 al primo turno incrocerà un avversario decisamente abbordabile, almeno sulla terra rossa, come Christopher Eubanks per poi eventualmente incontrare o Bornacioric o Richard Gasquet, due nomi sicuramente di peso ma in una condizione tutt'altro che ottimale. In generale un buon quarto di tabellone per Sinner anche se ovviamente le insidie non mancano soprattutto con la presenza dei due cileni caldissimi Tabilo e Jarry e poi eventualmente di Huberturkatz a livello di quarti di finale. Certo l'incognita principale e l'insidia principale rimangono le condizioni di Sinner dopo qualche settimana di poca attività perché tecnicamente in realtà nessuno di questi avversari rappresenterebbe una eccessiva preoccupazione per il giocatore visto fino a Madrid. Da segnalare infine sempre in zona diciamo Sinner un Mari Wawrinka che ha certamente un fascino un po' nostalgico e decadente. Passando al tabellone femminile spicca invece immediatamente la zona altissima, quella presidiata da Igas Viontek che al primo turno troverà una qualificata ma subito dopo in un ipotetico secondo turno potrebbe incrociare Naomi Osaka sortreggiata al debutto contro Lucia Bronzetti. Sviontek partirebbe comunque nettamente favorita con entrambe ma è innegabile che l'incontro eventuale con Osaka avrebbe un fascino particolare e probabilmente porterebbe anche a qualche insida in più per la polacca sotto l'aspetto tecnico. La parte alta del tabellone vede anche la presenza di Collins, Goff e Jabber oltre a quella di due italiane per cociaretto debutto complicato contro la testa di serie ad Admaia mentre Martina Trevisan è stata fortunata e al primo turno troverà una qualificata. Nella parte bassa invece le altre favorite del torneo con Zeng, Ribacchina e Sabalenka oltre a Jasmine Paolini che invece ha un buon tabellone il primo turno con Saville fino ad un possibile ottavo di finale con quella che ormai è la sua rivale in questo 2024 ovvero Anna Kalinskaya. In questa parte di tabellone da segnalare infine due incontri potenzialmente interessanti, Sacchari e Rischia secondo me qualcosa opposta al tennis potente di Graceva mentre Svitolina contro Pliskova è nettamente favorita ma insomma l'incontro rimane di prestigio e potrebbe riservare qualche insidia per la tennista ucraina. E tutto per oggi l'appuntamento è per domenica sera e poi ogni giorno con una copertura del Roland Garros che in questa occasione sarà quotidiana.